Sì, Cittadella dello Sport grazie anche alla polisportiva Toriello che ci sta dando una grandissima mano e ha fatto per la prima volta iniziare una squadra di pallacanestro in un paese che non aveva ancora conosciuto il basket. Stiamo cercando un attimo di portare questo movimento nuovo in questo paese. Primo campionato per voi nel torneo WISP, però Pasquale ci sono tante ambizioni, tanta voglia di crescere. Sì, ci sono tante ambizioni perché stiamo cercando un attimo di vedere cosa possiamo fare soprattutto per i giovani di Santo Stefano organizzando le squadre giovanili, cercando un attimo di vedere se riusciamo a fare anche qualche campionato più importante per l'anno prossimo. Quest'anno abbiamo iniziato con un WISP che sicuramente non è un campionato federale, però è un campionato che ci permette di iniziare, di mettere il primo tassello, il primo mattoncino per poi vedere, di caso mai, l'anno prossimo una prima divisione. A SS di basket a Santo Stefano però si avvale di una figura appunto storica del basket erpino. Sì, ci siamo comunque legati ad una figura storica come Angelo Arena, che è anche mio padre, ci ha dato una grandissima mano soprattutto nel settore tecnico e nel settore anche del vedere nuovi ragazzi per le giovanili, grazie anche a Matteo Pisano che si sta occupando un po' di questi ragazzi. Tifosissimi della Scandone in famiglia però si soffre per le sorti del club irpino? Purtroppo sì, perché io adesso a 41 anni ci sono cresciuto, prima nella tenda struttura e poi nel palazzetto e vedere la nostra squadra che purtroppo sta cercando di salvarsi è brutto, ma noi siamo fiduciosi, in fondo siamo lupi e siamo abituati a combattere sempre.